Oggi mi sta tagliando con me lo schifo Ciao raghi Ho preso finalmente Questo pack bellissimo Io adoro i draghi Vero? Niente Oggi sono in compagnia di Tark Che è il nuovo Membro della famiglia per chi non l'ha visto E niente Oggi sono in sua compagnia Ah già Facciamo questo video molto veloce Vi faccio vedere un po' come funzionano In scala livelli Praticamente Funzionano che una volta comprato Il pack Vi darà a ogni gettone di questo Un livello intero In questo modo Chi magari è rimasto indietro Con i livelli in questo caso Io non ho problemi di questo tipo Però mi piaceva il pack In questo caso Ehm Riceverete Dei livelli in più Quindi Riuscite a farvi il pass In un po' tempo In solo In un video Non ci vediamo Si chiama così Ah no Mi vabbè Va bene Al 2016 Minjon Ha perso Minjon 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 La sua lama bellissima La sua lancia suprema Della vita Ecco Che volevo dire Tra l'altro ora che ci penso Nei survey c'è anche la sua versione maschile Ora che ci penso Maschile? Si c'è anche una versione maschile Nei survey Non sapevo questa cosa Non l'avevo visto Perché mi è venuto in mente Che stava riguardo a noi survey Pov come fare subito I I scala livelli In 3 secondi No no come fare subito i livelli per punk Cioè proprio Butta la cosa Allora o ritorna O paradigma che chiama qualcuno Ha chiamato qualcuno dalla realtà Che si è visto nel trade Che è andata dentro al punto 0 Per cercare l'aiuto Forse ritornerà a fondazione Junson Non si sa ancora Ma vedremo E infatti perché la fondazione Si era andata C'è anche un po' Rivedendo i fumetti Non stava qua Nell'isola di porta Perché lui sta cercando ancora Genoa Insieme a Junson Sì Sto portando Eh sì Diciamo che il lord di gioco Noi non sappiamo niente Sappiamo che Loro due se ne sono andati Nella sfera Dove c'era ancora Questo fatirico Geno Che non si capisce ancora Sì perché Genoa Diciamo non è il suo vero aspetto Perché Genoa Diciamo era un po' Ecco la skin dei survey Eh già Poi c'è un'altra cosa Che adesso sappiamo Che c'è la Sloan Con due skin diverse Quindi Possibile ritorno Potrebbe ritornare Quella brutta personaccia Per me è la Sloan Ve lo dico a tutti Per me è la Sloan E' praticamente Un bambino Che viene ebullizzato Tutti i giorni Cioè Non so perché Ha pure Se sono i ricaviri Sembra quei fecchioni Che vengono sfruttati Dalla CIA O da qualcuno Esatto Se quei bambini Prodizzo Che vengono Sfruttati male Perché sono Intelligenti Allora Eh esatto Non vuoi Sì volevo scendere Occhio Occhio Eeeh Eeeh Qua siamo abituati A fare questi parkours Come hai chiamati parkours Sì 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 ma tu lo sai Che io Mi invento le parole Cioè È proprio una cosa La mia caratteristica Che mi Cambio le parole Un po' Come cavolo Mi pare Quindi Eh ciao Eeeh È da me Quindi se sentite qualche Se sentite qualche parola strana Eeeh Perché Tranquilli Non è Non è Perché non so Come si dice Lo so che si dice parkour Però Parkours È la mia edizione E' la sua versione Esatto Eeeh No Eeeh Si che cominciavano a parlare Perché avevo messo tipo riempi Non sapevo manco che era Per farti capire E a un certo punto E a un certo punto Ho sentito Cominciare a parlare Delle voci Ho detto Mamma che cazzo sono questi Stavo a giocare Eeeh E a un certo punto Cominciare a dire Ah mamma chi è questa Che è entrata con noi Eeeh Non parla Ma che cazzo è Tipo Tipo A bullizzare Sai quelle cose strane Sì Sì Quelli fanno seppure Sai quanti cete saranno No no Ma erano ragazzi Pure di una certa età Perché Mi ricordo Che erano belli grandi Ma provate Che devo morire Sempre Cioè Come una polla E niente E quindi Stavo dicendo Eeeh Mentre Mi fai fuori Perché Praticamente Eeeh A un certo punto Ho spento tutto Eeeh S'ho crashata Perché Praticamente Loro dicevano Eh ma non si muove più Non si muove più Ma Già è morta Tipo Quelle cose così Ah No Aspetta Emoti adesso Un secondo Non ho voluto più toccarlo Fino a quando Non In seconda media Mi pare che me l'avevano fatta Non so un po' Infatti Infatti Mi sono tipo Tre anni Che ce l'ho Ho fatto tre anni Al mio compleanno Praticamente E niente Quindi non sapevo proprio niente Dei portami Allora Volevo dire una cosa Sempre alla Alle persone che guardano Nel video Io e Kids Siamo Tutte e due Maggiorenni Tutte e due Vero 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 La cosa che volevo Dire No Perché Perché Non ho capito No Volevo dire Così Così Scopo informativo Ragazzi Siamo Tanti maggiorani Possiamo fare il cazzo Che ci pare E niente Siamo dei fallitori Di merda Effetto Il tetto Ho posto Vabbè Ci stava Come meme Dai Eh sì Eh sì Poi si ripete E dici Ma in realtà Non è proprio Un meme Effetto È la realtà Dei fatti No Ma ci stanno Altri No 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 Vai Vai Madonna Un altro Un altro No Mi sto ricaricando Oh 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 Madonna Madonna Come cazzo È possibile Dio No No raga Io ti ho restato Oh prima ti ho restato a te Dopo questa Mi dovete mettere like Cioè Troppo Cioè Per stazione Cioè Merita tutto Allora Io ricarico l'arma Non si sa mai Tra l'altro vedo man cake Con una Vesta è diversa Adesso Con un altro stile Non lo so Guarda Perché alcune volte Le skin Cambiano stile Io lancio il video così Ragazzi Ciao 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 Ciao